...e Parma col naso all'insù per scoprire il tempo che fa. L'ondata di gelo e neve che sta colpendo il Nord Italia mette infatti a forte rischio anche la gara di domani delle Tardini. Gli operai sono al lavoro per assicurare l'agibilità dello stadio e la massima fruibilità del terreno di gioco e a tal proposito sono stati già stesi i teloni sul manto erboso e messo in azione lo spalaneve. Condizioni climatiche decisamente più serene invece a Torre del Grifo dove il Catania ha svolto stamane la seduta di rifinitura a porte chiuse prima della partenza. In casa Rossoazzurra Marana deve fare i conti con le tante assenze ben sei gli indisponibili oltre allo squalificato biaggianti out anche gli infortunati Almiron, Barrientos, Sciacca, Capuano e Sani. Il tecnico Etneo rimescola quindi le carte per mettere in campo una formazione competitiva e provare a sfatare il tabù Parma mai una vittoria dei Rossoazzurri nelle 15 gare fin qui disputate. È ovvio che anche il Parma ha delle peculiarità, ha delle caratteristiche ben precise da quella parte spingono molto e noi lo sappiamo bene però di questo ne prendiamo atto ma cerchiamo di avere le nostre caratteristiche mantenendo questa identità che continuiamo a rafforzare ogni partita in partita. Tra i possibili scenari tecnici anche quello che prevede la rinuncia al 4-3-3 e l'impiego di uno tra Richiuti e Checo nelle tridenti di trequartisti da schierare alle spalle dell'unica punta a Bergessio.